Ciao a tutti, io sono Bruno Lorefice, sono un componente della Commissione d'Albo Nazionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e curo la delega agli aspetti giuridici e medico-legali per conto appunto della Commissione d'Albo Nazionale. Il gruppo sugli aspetti giuridici e medico-legali della Commissione d'Albo Nazionale collabora col gruppo AGML della Federazione Nazionale e si fa carico di una serie molto voluminosa di tematiche che dal territorio arrivano alla Commissione d'Albo Nazionale che sono inerenti sicuramente alcuni dubbi e alcune criticità relative a dei difetti di interpretazione o dei dubbi interpretativi sulle norme che poi hanno riflesso all'interno dell'attività lavorativa dei nostri colleghi. Viaggiamo spesso su tre livelli. Di solito a breve termine cerchiamo di rispondere ai quesiti posti dai nostri colleghi provenienti dai territori in maniera esaustiva per quei temi che possono essere risolti in maniera veloce. Aggiamo invece in maniera a medio termine per quei quesiti che invece necessitano di ulteriori c'è che passaggi appunto con gli uffici legali della Federazione Nazionale a lungo termine la sezione AGML della nostra Commissione invece tende a organicare, a strutturare dei veri e propri documenti di posizionamento su determinate tematiche specifiche e professionali spesso proprio su decreti legislativi che normano la nostra attività così da creare dei documenti condivisibili con tutte le commissioni d'albo territoriali dei tecnici sanitari di radiologia medica. Allo stesso modo si occupa di stimolare, di creare le condizioni per un confronto continuo con i referenti territoriali sugli aspetti giuridici e medico-legali delle nostre commissioni creando dei veri e propri gruppi di lavoro e andando pertanto a studiare anche delle tematiche insieme per avere una pluralità di punti di vista e di suggerimenti.